Il 31enne ha mandato quel messaggio alla ragazzina per indicare volutamente Davide. La ringa dell'avvocato Fabrizio Gallo, rappresentante della famiglia del 21enne di Bologna, che al termine della sua discussione ha chiesto l'imputazione coatta per l'indagato e poi il messaggio tramite social è stato mandato senza aver visto Federico, la risposta del legale Enzo Cavarretta che difende il 31enne di Petiglia Policastro per il quale ha sollecitato l'archiviazione del procedimento. Ieri mattina, davanti al GIP del Tribunale di Crotone Romina Rizzo, che si è riservata la decisione, si è svolta l'udienza per l'opposizione all'archiviazione proposta dalla Procura per l'uomo finito sotto accusa per aver involontariamente per gli inquirenti sviato da sé l'attenzione della spedizione punitiva che l'11 agosto del 2022 ridusse in fin di vita Davide Ferrerio mentre si trovava in vacanza a Crotone con la sua famiglia. L'indagato, come si ricorderà, mandò un messaggio alla giovane, all'epoca minorenne, con il quale da tempo aveva un flirt dicendole falsamente che quella sera in cui si sarebbero dovuti incontrare per conoscersi indossava una camicia bianca. In questo modo il bersaglio del gruppo, che aveva l'intenzione di punire lo spasimante La Raganzina, diventò l'inconsapevole Davide che in quel momento era a breve distanza dal Palazzo di Giustizia e indossava un indumento bianco come descritto nel messaggio. Dopodiché il ventunenne venne riconosciuto e atterrato con calci e pugni da Nicolò Passalacqua. Secondo gli avvocati che assistono i genitori di Davide, ieri in aula erano presenti oltre a Gallo anche Vincenzo Cardone. Il ventunenne avrebbe inviato su Instagram quella scritta con il chiaro intento di indicare Ferrerio in quanto poco prima l'avrebbe visto passare vicino a sé.